ah, Santino, vai a fare questa lezione, ma che io vado a fare due guido oh, Santino, Nello oh, Andre, vieni qua ciao, Andre ancora a casa, sì allora, in realtà, siamo venuti io e ciccio per domandarvi se volete fare l'intervista allora, vi spiego intervista, e chi? no, aspetta, non c'è una scherzata ma come no, un attimo, non lo sai quello che ti vuole ma l'intervista, no no, noi dobbiamo lavorare ma che lavorare per 5 minuti ci voglio per me, per me, per me, per me non so, non c'è nessun consiglio allora, ti chiedo, andrà, devo andare a fare dei guido andrà, ho capito, ora le cari guida, aspettò, ti spiego a meno quello che facciamo pensamo, quindi, andrà, però, guarda, non lo svegli tu non lo svegli tu, tardi, non lo svegli tu tanto, non lo svegli tu, ma guarda, ma guarda, ho capito Paglia, ma guarda, allora, guarda, sentemolo, io d�lu quanto c'è la vostra , non c'è stata possibilità grazie, allora, io no, ne abbiamo canale su YouTube ma si fa, ci c'è �itesimo, come si fa con canale di sopra YouTube ma che devi fare con canale di sopra YouTube ho avuto l'intervista non solo intervista anche un video e mettere su internet basta scherzando vai il video no no io ho da fare devo andare con mio figlio e ti lo comprendo dice che l'avestation vabbè ci vediamo pure lì ciao ci vediamo pure lì e facciamolo pezzi troppo ma perché non ti fai fatto dove?